ragazzi questo è quello finito di mia sorella quello finito di mia sorella così qua ci ho sacato anche una forfallina foglie, 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 sempre foglie così, ecc e questo è il suo procedere mio ok, usciamo fuori e troviamo il mio abbiamo toccato questo per erba poi abbiamo messo dei rametti dentro le mie fuori, così e questo è il condominio comunque spero che vi sia piaciuto e vi saluto a tutti quanti ciao